Ciao da Azzaroth della Tana dei Goblin, benvenuti a questa puntata speciale del Goblin Show di Natale. Vi presento subito i nostri ospiti di stasera. Elena, ovvero Mary Ellen Blige. Yo, buonasera a tutti. E Methods Bam MC. Yo. Allora, so che avete preparato una canzone speciale per il Natale, allora sentiamola. Ah. L'associazione è chiusa da una vita, ma io ho futuro che sul tubo strima tutta birra. La lista dei solitari l'ho finita, ho voglia di far dal vivo una partita. Non gioco, ma compro, solita tranquila, fiera digital, video recensione anche prima, il carrello un'altra riga, scatola su scatola, la mia cala di squastra ripa. Ancora questi pacchi, ma non ce ne ho tanti? Non è copa mia se ormai i pleggio sono giganti, sogno alle serate che tutto passa. Se a team infiniti va bene persino a nabi, ma ogni... Perché giocare a distanza, anche su TTS, non è lo stesso per me. Ho una voglia assurda... Di stare tra la gente, prendo il panettone, giocare a Just One, ridere fino a scoppiare. Perdere a Spirit Thailand e potersi abbracciare. Pensare ad ogni scelta. Che poi sì, che ci importa? Stiamo qui ogni sera. Se da fare la felicità. Dati auguri a tutti. Dati auguri a tutti. E se potessi andare in fiera, lo sopporterei tutto. Anche quelli che alle mosse pensano di brutto. E se da cranio vedo tutti i sorrentini, mi fermo e lo saluto agitando le mani. A chi fan degli splottero, lo sogno al club e zig e zag. Perfino all'espansione di Wingspan. Vorrei uscire da Yucatai. Il mio umore è cambiato di botto. Come nei packs. Al futuro penso poco. Tanto già pleggiato, il passato tornerà come un voto. Sulle c'ha di gruppo, Buda andrà bene, non so. So solo che vorrò giocare a tutto. Perché giocare a distanza, se BGA non crascia, non è lo stesso per me. Ho una voglia assurda di stare tra la gente mangiando Pandoro. Se c'è Fantascherati, ridere fino a scoppiare. Perdere l'Arc Amorror e potersi abbracciare. Pensare a ogni scelta. Che poi sì, che ci importa. Stiamo qui ogni sera. Seda a fare la felicità. Date auguri a tutti. Woohoo! Ho una voglia assurda. Sbagliare in fazione di quelli che urlan giocone. Ho una voglia assurda. Patatine sulla plancia. Gli altri che li scombano in faccia. Che poi sì, che ci importa. Stiamo qui ogni sera. Se tappare la felicità. Tanti auguri a tutti. Woohoo! 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 Tanti auguri a tutti. Woohoo! 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 Ringraziamo Elena e Marco e voi per averci ascoltato. e vi invito a viaggiare nuove idee al podcast che ho su la Goblin's punto net. Marco, non stiamo registrando Radio Goblin? Mamma mia. Ciao! 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 Sì